Ciao ragazzi, sono diventato una palla! Come va? Spero tutto bene! Ciao! Allora, come state ragazzi? Spero tutto bene. Qui abbiamo ancora il cappello di Natale perché le feste si fanno sentire. In questo video siamo una palla e dobbiamo sbloccare tantissimi livelli e tantissime skin interessanti. E voi dovete sbloccare assolutamente l'ultra abilità di lasciare tanti mi piace a questo video e di iscrivervi assolutamente. Perché è super importante, perché molti di voi che guardano i video non sono iscritti. Io vi vedo, io vi guardo, io vi vedo. Ok, quindi livello 1. Siamo questa palla fantastica. Quindi vediamo un pochettino. Livello 1. Oh, i soldini! Vediamo, questo posso romperlo? No, fantastico. Altri soldini prendiamoli perché sicuramente con questi soldi possiamo sciopparci delle palline. Ok, abbiamo due cuori, vediamo. Qui ci fa vedere... Oh, un portale. Un portale che ci porta al livello 2 o un portale che porta le caramelle? Un portale che porta al portale dell'altro portale. Eh? Livello completato! Guardate, skin shop! È fantastico! Allora, skin! Vediamo un pochettino. No, vabbè, ragazzi. La skin di SpongeBob. La skin di Among Us. Poi chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Poi la skin di Agiwagi! No, questa va presa. Questa va presa. La skin di... di Blue Day Rainbow Friends. No, io devo attivare le pubblicità, ragazzi. Io devo attivarla. Cioè, guardate. Guardate quante skin incredibili! Ok, vediamo. Oh, sì! Mi ha sbloccato guardando la pubblicità questa. La skin di Red. No, vabbè, c'è anche quella di Agiwagi. Ok, io direi di usare lui. Vediamo. Next. Ok, ragazzi, ci siamo con la skin di Red. La skin di Red. Vediamo. Ok, abbiamo preso la calamita. No, quella di Black Panther! La skin di Black Panther. Ok, la calamita. Con la calamita tutte le monetine arrivano a noi. Guardate! Fa l'elettricità! Ma questo so che è bellissimo! È fatto veramente bene! Piano, ho visto qualcosa lassù. Ho visto qualcosa. Ok, devo sicuramente andare là, eh. Che è sto coso? Cos'è? Wow! Ok, piano. Piano, Black Panther. Ok, via. Continuiamo così. Di qua che è? Ah, devo saltare sopra i cattivi! Addirittura ci sono i cattivi! Ma becca di questo, balding mamma! Ok, qua che è? No, 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 no. Piano? Ok, level 3. Level 3, ragazzi. E sta diventando sempre più difficile, eh. Ok, nello shop ovviamente i soldi e non ci interessa. Skin? Io voglio quella di Huggy Wuggy. Vai, guardiamo la pubblicità. Ok, abbiamo anche la skin di Huggy. Fantastico! Prossimo livello. Ok, vai. Mamma mia, ma quanti livelli ci sono? Allora, calamita. Allora, così cosa dobbiamo fare? Ah, bisogna spostare la cassa, ragazzi. Ok, quindi spostiamo questa per andare qua. Ma ci sono anche le pubblicità dentro il gioco, i cartelloni pubblicitari. Ma che è? Ok, qua bisogna salvare la palla. Ti salvo io, amico! Ah, ah, fantastico! Vabbè, ma fin qui è troppo semplice, eh. Ok, ottimo. Livello 4 completato, ragazzi. Direi di procedere ed andare al prossimo. Ok, ecco qua. Siamo di nuovo in Red. Red! Adesso bisogna superare. Attenzione, non bisogna finire in acqua, eh. Qua che è? Un'altalena. Ok, saltiamo su. Ottimo. Attento, Red, eh. Attento perché non si sa cosa ci potrebbe essere qua, ok. Questi livelli, ovviamente, sono molto semplici perché sono i primi. I funghi? Boing! E immaginavo, eh. I primi livelli sono sicuramente i più semplici, ma pian piano che si andrà avanti saranno sempre più difficili, ragazzi. Cioè, quella di Huggy Wuggy non me la fa più usare. Me l'hanno fatto usare per pochissimo tempo. Allora, blu oppure... Io ho visto quella di SpongeBob. Cioè, quella di SpongeBob, ragazzi! No, no. Va sbloccata. Ok, skin di SpongeBob! Vai, vai, SpongeBob, fassi sognare. Ok, vediamo, livello è il 5. Ok, poi c'è il boss finale, eh. Ok, guardate che carino! La palla di SpongeBob mi fa troppo ridere. Ok, salta. Let's go, SpongeBob. Ok, tutte queste monedine prima o poi mi serviranno a qualcosa, lo prometto. Dai, ma non può essere così semplice questo livello. Ok. Oh, no! Ci sono? Ci sono i mostri? Ok, quelle monete là? No, le prendo solo guardando la pubblicità. Ma col cavolo. Ok, ottimo, ottimo lavoro per Sponge. No, grazie. No, no, non voglio sciopare. No, gra... No, grazie. No, 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 grazie. Allora, regali? Ah, i regali guardando la pubblicità pian piano posso sbloccare quelle. Ok, c'è la ruota. Non si fa nemmeno girare un giro gratuito questo gioco. Si vuole impossessare di tutte le pubblicità. Ok, abbiamo di nuovo blu perché SpongeBob ci ha salutato. Abbiamo guardato poca pubblicità e SpongeBob se n'è andato. Ok, sulla barca. Attenzione, mamma mia che paura, eh. Oh, che è? Che è stato? Mi spara, no? Ok, checkpoint. Ci siamo. La chiave. Chiave presa. Ok. Ok, manca una terza chiave. Possiamo aprire qualcosa sicuramente di interessante. Attenzione, il mulino. Mulino bianco. Voglio un... una rozzirella, grazie. Al cioccolato, eh. Ok, dove si porta? È già a livello 7. Mamma mia, ma troppo facile per la faccia. Troppo facile. Regalo. Apri. 800 monete. Io non ho capito con queste monete che cosa si posso fare. Shop. Ah, le skin. Sì, ma costano. Compra. Compra. Sì, io voglio sapere il prezzo. Il prezzo. Dov'è il prezzo? Coin. Eccole. No, la cosa dei Fantastici 4. Non si posso credere. Questo che è? Una sfera, un biliardo. FNAF. Chi cavolo sei? Frankenstein. Mamma mia. Pennywise. Sì, ma io, ragazzi, non ho abbastanza monete. Ne ho 1800. Sono povero, come la fame. Sono povero. Non posso permettermi niente. Mi dispiace, eh. Ok, prossimo livello. Vai. Dobbiamo finire il primo stage perché, guardate, non siamo nemmeno a metà, eh. Non siamo nemmeno a metà. E alla fine c'è un boss. Io sono veramente curioso perché questo gioco mi fa troppo ridere a non prendere il per due. Ok, bisogna mettere la cassa qua. Ah, per abbassare il ponte. Attenzione. Io lo dicevo che diventa... Che è questo? Diventa sempre più difficile. Che è sto coso? Cos'è? Ok, sicuramente con quello se mi piglia, faccio una fine orribile, eh. Ok, di qua. Vabbè, bella faccio. Ma quando ne so? No, 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 bello. Beccati questo. Ok, livello 8 completato. Li facciamo adesso tutti velocissimi. Level 8. Oh, oh, oh. Ah, le catene. Attenzione, c'è il ponte, ma è bellissimo. Ok, lo sponsor della Coca-Cola. Ma che è? Attenzione. Cesta gigante. Ok, l'abbiamo piazzata. Vamos, 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 veloce. Vamos, Horacio. Vai, vai, Red. Facci sognare, Red, eh. Ok? Non andare nell'acqua perché, come tutti sappiamo, le palline non sanno nuotare, eh. Quindi sarebbe molto pericoloso. Attenzione, da questa parte, impalcature. Oh, non sono ancora morto, eh. Ecco, adesso l'ho detto, sicuramente morirò. Livello 9, ragazzi. Ci siamo. Non prendiamo tutte le cose che non ci importano della pubblicità. Che cavolo è sto coso? Ok, facile. Facile. Oh, mamma mia. Che riflessi, ragazzi. Perché io ho dei riflessi incredibili? Ed è per questo che ancora non sono morto. Sembra facile. Ma perché io so giocare? Cavolo. Oh, mamma mia. No, lama letale. Non prendermi, eh. Mamma mia, che paura. Ok? Terza moneta. Abbiamo tre chiavi. Tre chiavi abbiamo, ragazzi. Possiamo aprire qualcosa di interessante. Level 10. Ok, io direi questo, questo e questo. Ok, due vite gratis e soldi. Ottimo lavoro. Abbiamo 2.500. Ancora non bastano per le skin che voglio io, eh. Vediamo. Questo è troppo. Sì, vabbè. Un po' meno. Un po' meno. Non ho tutti questi soldi. Se questo è 30.000. Se il minimo è 30.000, ma riuscite a capire? Oppure devi guardare le pubblicità? C'è qual quadra che non cosa. Ok, livello 10. Ne mancano pochi per il boss, eh. Come mai la visuale ha fatto così? Che? Ok, devo fare attenzione, eh. Perché ha fatto così? Boh. Ok, andiamo. Piliamo attenzione a sti cosi perché ci fanno molto male, eh. Noi siamo delle palline piccoline. Sono Rainbow Friends Red Help No Among Us Ti libero io Si Abbiamo liberato Among Us Ok quindi possiamo usare la pallina di Among Us Nei prossimi livelli New skin Se devo guardare la pubblicità Se ti ho salvato E devo guardare la pubblicità Ma later Later voto Allora vediamo Abbiamo un giro gratis No Abbiamo dei regali No Abbiamo una skin da prender No Vogliamo la verità Livello 11 Vogliamo la verità Perché questo gioco È così carino Chi è il boss finale Le domande della vita Ecco Un bel saltino Ok Non pubblicità Attenzione a sti funghi Oh cavolo Ho rischiato lì eh Ho rischiato di non tornare a casa Ok Una leva Che fa sta leva Apre il passaggio Ah così devo fare Ok Aperto Vabbè bella fassa Ma quanto ne sai Oh mio dio È divertentissimo Diventa sempre più complesso questo gioco eh Ok Devo stare attento Perché potrebbero essersi dei pericoli ovunque Livello 12 Ok Allora abbiamo qualcosa di gratuito Qualcosa di gratis Allora Usiamo la skin di Pennywise Skin di Pennywise Ok Pennywise Ok Pennywise Fazzi sognare Livello 12 Siamo quasi arrivati al boss finale eh Oh attenzione Cattivo Mamma mia ma se i cattivi sono tutti così scarsi Sarà una passeggiata No voglio quella moneta Voglio quella moneta Sarà un rischio Ma io lo affronto Perché altrimenti non mi chiamo Pennywise Ok su No Altre monete Le voglio tutte Mi ricorda Super Mario Eh sì Super Mario Molto Molto Me lo ricorda molto Stranamente Però vabbè Non so più che cosa dire È meglio che non parlo Ciao Allora Allora Livello 13 Ci manca poco per il boss finale eh Pensavo che fosse più difficile questo gioco eh E invece è solo carino e puccioso No Mamma mia come ho fatto a salvarmi Non si sa Oh attenzione le piante carnivore Di piante contro zombie Sono loro Sono loro Via 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 Bravo bella faccia Sì così Facile Vieni qui ma strisciattolo Ti salto sopra la testa Ok un'altra chiave gratis C'è qualcos'altro qua Oh attenzione Distrutto Con sta palla che ci faccio Ok qua sopra Easy Dai ma facile Boss finale Stiamo arrivando eh Stiamo arrivando Rotolando proprio eh Rotolando Sì però io Non avevo scioppato Cioè Non me lo da più Pennywise Cioè scusami un attimo però eh Così non è mica Non è giusto Oh ragazzi Mi sa l'ultimo livello Prima del boss eh Ultimo livello Prima del boss finale eh Ok pigliamo le monete Monetine Monetine belle Le voglio tutte Le voglio tutte Non so se mi sono Spiegato abbastanza bene Lo sapevo che c'erano altre monete qua Lo sapevo Ok Ok ho preso tutto Ok tutte le monetine Wow però Ci ha dato Ma che è Ma che cavolo Ma che cavolo è sto coso È una melanzana mon gas La melanzana mon gas Le melanzane Le grande melanzane De mon gas Siamo noi Attenzione Oh rotola 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 molto Ok monete Grande Boss finale La melanzana di mon gas Sta arrivando da te Ok ragazzi Ci siamo Ci siamo Boss finale Oh mamma È lui È lui Ah Sta arrivando No Aiuto 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 Ma è così Subito Ma che è Che fa Oh mio dio Ma che lanci Ma sei pazzo Aiuto Aiuto Oh mio dio Lo scontro finale Beccati questo Ma che è Mamma mia Ma l'ho già disintegrato Vabbè Ma era nabbo Ma ragazzi Ma che è Ma era così semplice Ma che mia nonna Se la faceva Ragazzi Per oggi Ne ho le scatole Piene Di queste palle Ok Quindi Basta rotolare E ci vediamo presto In un nuovo video Ciao Uh oh